Gloria, ma l'abbiamo cantato nella messa, ma oggi voglio chiudere con il nostro, con le notte dell'inno di Mameli. È l'inno che ci mette insieme, noi che ci vogliamo bene, noi italiani nel mondo, e allora viviamo la festa della Trinità così, in semplicità, volendoci bene e impegnandoci in questa settimana a voler bene agli altri. Allora, sulle notte dell'inno di Mameli, cantate dalla comunità di Cale Spesatore di Rosario al pianoporte di Gerangher Milano, noi ci salutiamo e ci rivedremo domenica prossima, alla stessa ora. Arrivederci a Tala Vita, bye bye. Ciao a tutti e buona settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.